Cos'è una cisti ossea aneurismatica? Una cisti ossea aneurismatica è una lesione ossea che, sebbene benigna, può crescere rapidamente e potenzialmente distruggere il tessuto osseo. Le cisti possono causare dolore osseo, difformità ossea e altri sintomi che dipendono dalla loro posizione. Queste cisti sono definite aneurismatiche perché viste su una radiografia, le cisti assomigliano agli aneurismi. Le cisti ossea aneurismatiche sono rare, tra l'1% e il 6% di tutti i tumori ossei appartengono a questa varietà. Sebbene queste cisti possano crescere in qualsiasi osso del corpo, i luoghi più probabili per la crescita di una cisti ossea aneurismatica sono gli arti, le ossa del ginocchio e le vertebre spinali. Sono più comuni negli adolescenti rispetto ad altri gruppi di età, con oltre l'86% delle cisti che si sviluppano in persone di età inferiore ai 20 anni. L'età media di questi pazienti è di 13 a 17 anni, ma le cisti possono svilupparsi in persone di qualsiasi età. La causa sottostante delle cisti ossea aneurismatiche è sconosciuta. Alcuni si sviluppano in aree in cui si sono verificati in precedenza traumi ossei e altri si verificano in concomitanza con altri tipi di tumori ossei benigni o maligni. Altri ancora si sviluppano in assenza di altre malattie o traumi. Lo sviluppo di una cisti ossea aneurismatica non sempre causa sintomi. In alcune persone, le cisti rimangono piccole e nessun sintomo si sviluppa mai. In questi casi, le cisti vengono scoperte solo quando viene effettuata una radiografia per un motivo non correlato. Quando compaiono i sintomi, comunemente includono dolore, gonfiore e formazione di massa nella sede della cisti. Quando la cisti si trova vicino a un'articolazione, potrebbe causare una ridotta gamma di movimento o rigidità o debolezza delle articolazioni. Alcune cisti crescono rapidamente e indeboliscono il tessuto osseo, con conseguente aumento del rischio di frattura. Se la cisti cresce nelle ossa del midollo spinale, potrebbe causare sintomi neurologici. Quando necessario, il trattamento delle cisti ossea aneurismatiche generalmente include un intervento chirurgico per rimuovere la cisti e riparare l'osso interessato. Il trattamento più comune è il curettage della cisti seguita dall'innesto osseo. Il curettage significa che la cisti viene aperta e il contenuto viene raschiato con uno strumento scavato chiamato curette. Una volta che la cisti è stata svuotata, viene inserita in un innesto osseo o in un riempitivo sintetico. Anche se il curettage è il trattamento più comune, ha il più alto potenziale di ricorrenza, a causa della difficoltà di rimuovere tutti i contenuti della cisti. La crioterapia, che è una terapia a freddo, viene talvolta eseguita dopo il curettage per ridurre la probabilità di una recidiva, ma questa procedura può causare fratture ossee o danni ai nervi e quindi non è un trattamento comune. Quando una cisti ossea neurismatica si trova in un osso non portatore di peso, può essere rimossa tramite una sportazione completa piuttosto che il raschiamento dell'interno. La rimozione completa della cisti riduce anche il rischio di recidiva. Il trattamento chirurgico non è sempre richiesto. In genere, se una cisti non cresce o cresce molto lentamente, non viene trattata. In questi casi, il paziente viene monitorato per i segni che il tasso di crescita della cista è in aumento. Ciò potrebbe includere regolari scansioni di tomografia computarizzata o scansioni di risonanza magnetica per valutare le dimensioni della cisti ossea neurismatica.